Come costruire la crescita aziendale ne parlo, questa volta modero io con Diego Caponigro, founder e CEO di Regold, Simone Rossi co-founder di Getaway.com, Giovanni Codamer, Digital Focal Point di Alto Fianco e Daniele Mancini, CEO e founder di GoNext Group. Ben trovati. Quindi, allora, siccome non c'è con noi Laila Deberto che sarebbe dovuta essere appunto in questa round table, ne approfitto per utilizzare la poltrona. Fatto bene? Allora, tra l'altro, scusate, io ho fatto anche caso a un'altra cosa, Gerardo, ti pregherei l'anno prossimo di fare caso, ma qua di donne veramente che vengono a parlare sul pacco, pochissime, io, Marcella e poche altre, dobbiamo fare qualcosa su questa cosa qua, ragazzi. In sala ne siete tante, ma ce ne saranno anche come capi azienda, come leader, manager e quindi insomma fatevi avanti perché qua c'è un problema, oltretutto l'immobile ci piace, la casa ci piace, il design ci piace, per quale motivo? Dobbiamo far comandare tutto loro, ma veramente. Allora, programmare la crescita aziendale. È possibile, mettiamo un punto interrogativo, che si tratti di una società che confeziona prodotti, che produce prodotti o produce servizi, la pianificazione che guida lo sviluppo dell'impresa. Allora, ce lo raccontano queste aziende, hanno dei business distinti, ma sono aziende che comunque hanno un fattore comune che è naturalmente essere operative nel settore immobiliare. Diego Caponigro, allora mi dicono che c'è un po' una storia tipo Bill Gates qua o Steve Jobs, tutto nasce da un... Se lo dice Gerardo probabilmente... Me lo dice la scaletta, me lo dice la scaletta, non ho fatto in tempo a fare tutte le verifiche che giornalisticamente parlando dovrei fare, ma qua la scaletta di oggi era impressionante, quindi su tutti non ho potuto fare il controllo, ma mi fido assolutamente. Però insomma, da un primo ufficio in un seminterrato all'acquisizione da parte di Idealista. E qui insomma un percorso intenso, veramente dal basso ad un momento stellare. Come è stato possibile trasformare Regold da start-up a marketplace di riservizi per agenti immobiliari, che mi pare sia uno dei più noti d'Italia? Sì, sì, assolutamente sì. Questa è una bellissima domanda, però è anche complesso rispondere. Significa raccontare una storia molto lunga, ormai sono 12 anni, che ha avuto un percorso anche molto difficile. Ci sono imprenditori che hanno aziende di 50, 60, 70 anni, per voi ci sono certi comparti in cui invece una decina d'anni sembra già un periodo lungo. No, ma anche questo è un tema interessante. Sì, per me è un periodo lunghissimo, perché se penso a 12 anni fa è cambiato completamente il mondo. Io ai tempi sono stato, la mia bravura probabilmente è stata quella di intercettare un certo tipo di cultura che sarebbe cambiata a livello sociale, che poi è stato l'avvento di Amazon, no? In questo senso, perché quando sono partito io con l'azienda nel seminterrato, in provincia di Milano, c'ero solo io, vendevo solo io, ma quando chiamavo per vendere e dicevo che ero un e-commerce e mi dovevano pagare in anticipo, non mi credeva nessuno, mi davano del pazzo, no? E compravano in pochi, è vero la verità. Sapevo che le cose sarebbero cambiate da lì a breve, perché sarebbe arrivata Amazon, Amazon è arrivata molto prima, però ha iniziato a vendere libri nel settembre 2012 e questo sarebbe, sapevo che avrebbe comunque cambiato le regole del gioco. E io non ho fatto altro che intercettare questo tipo di movimento e pian piano iniziare a costruire e vendere sempre di più, iniziare a prendere persone che potessero lavorare con me e forse questo è stato il passo più importante. Insomma, amata o detestata quella società perché è veramente sempre divisiva quando se ne parla, però alla fine è un cambiamento importante per tanti, l'ha prodotto non solo per loro. Simone Rossi, in un settore popolato da grandi compagnie e da investimenti milionari, come è riuscito a far crescere Gateway.com che oggi è un portale di riferimento per il mercato internazionale? Beh, diciamo che noi, la nostra forza è che siamo specializzati, noi siamo nati, cresciuti e continueremo a puntare solo e esclusivamente per il mercato estero, quindi selezionarsi un mercato, un mercato tra l'altro che in Italia non è così affollato di gente che comunque è specializzata nel mercato estero, sicuramente ci permette di crescere e di fare la nostra parte. Noi siamo nati nel 2008, quindi 15 anni, anche per noi sembra una vita, però effettivamente, come dicevi, non è un periodo così. Questi ultimi due anni ci sono sembrati veramente... Ci sono aziende centenarie, quindi però ecco, in questi 15 anni ci ha permesso comunque di crescere tanto, quando abbiamo aperto eravamo sicuramente l'unico punto di riferimento che c'era fra le agenzie immobiliari italiane e a stranieri che volevano comprare case in Italia. Quindi noi siamo riusciti a trovare questo collegamento, a creare questa trade union di fatti da domanda a offerta e niente, siamo molto soddisfatti, ovviamente bisogna investire molto in tecnologia, bisogna investire molto in contenuti, bisogna investire molto in qualità, però questo permette poi di avere comunque risultati ottimi. Tra l'altro oggi, così, chiaramente seguendo tutti gli interventi, ascoltando tutte le storie, tante aziende che popolano questo mondo, ognuna con un brand diverso, un modo di fare diverso, e ho pensato siete veramente tante e poi in realtà scopro che questo è un mondo che ha tantissime necessità, tantissimi bisogni, quindi ancora veramente tante opportunità da cogliere. Quindi veramente complimenti a tutti perché ognuno per la sua parte intercetta, si insinua in quel filone che è necessario, appunto sul quale è necessario insistere, sul quale è necessario puntare. Giovanni Codamer, Altofianco, tra l'altro il nome è veramente molto bello, è una grande azienda che sta sviluppando con gradualità il suo ingresso nel settore immobiliare. Perché con gradualità? Vi state prendendo i vostri tempi? Per quale motivo? Altofianco è un'azienda di servizi che è nata per servire le imprese, quindi dall'imprenditore all'SPA in settori diversi. Io sono entrato in Altofianco tre anni fa, venivo dal mondo immobiliare, e quindi ho portato la mia rete contatti e quello che era il mio know-how in questo mondo, e abbiamo iniziato a sviluppare delle soluzioni, soprattutto lato digital, che potessero andare incontro alle esigenze dell'agente immobiliare. Quindi graduale per questo, nel senso che poi queste soluzioni ci hanno anche consentito di intercettare i player medi e grandi, di iniziare a interfacciarci con loro e di costruire relazioni sulla base di quello che è il nostro modello di crescita, che è un modello che si è sempre basato sull'ascolto del cliente, sulla specializzazione e sulla creazione di soluzioni su misura. In questo contesto la parte digital è stata vincente, perché a differenza delle aziende del settore, che sono verticali e specializzate sul loro prodotto, noi abbiamo un team digital eclettico, una settantina di sviluppatori che si possono adattare a soluzioni diverse, e quindi abbiamo potuto sviluppare partnership dedicate con diversi player del mercato. Quando queste partnership si concretizzano e si sono concretizzate, è stato il cliente stesso che ci ha chiesto di approfondire gli altri ambiti di alto fianco, perché non facciamo solo il digital, facciamo connettività, cyber security, ci occupiamo di assistenza legale, GDPR, ci occupiamo di evoluzione aziendale, quindi outsourcing e di efficientamento energetico. Quindi fiducia acquisita con un prodotto, espansione e... Poi soluzioni tailor made, da quello che capisco. Soluzioni tailor made che poi diventano integrate con un unico riferimento come fornitore. Benissimo. Andiamo adesso a Daniele Mancini. Io non so pronunciare il nome della vostra applicazione. UIS. Facilissimo, c'è proprio una cosa... UIS. Ah, ecco, quindi l'acronimo proprio di chi è. Chi è. Perfetto. Allora, con questa applicazione voi fornite informazioni utili agli agenti per l'acquisizione e la profilazione del cliente. E mi risulta che in pochi anni abbiate raggiunto diverse migliaia di agenzie, quindi non centinaia, ma migliaia. Qual è il segreto di un trend di sviluppo così importante? Noi abbiamo scommesso sulle agenzie immobiliari. Come ci siamo detti anche prima, è importante scommettere sul modo di lavorare delle agenzie. Abbiamo trovato un po' modi vecchi per fare dei controlli, per fare dell'indagine, per fare acquisizioni. Quindi abbiamo preso tutti i database pubblici italiani, abbiamo ricreato il catasto, si utilizzava Fister, che sono delle applicazioni vecchie dell'agenzia delle entrate. Qualcuno che gli ha dato una rinnovata ci ha pensato, perché pare che sia un grosso problema. Assolutamente è un grande problema. I sistemi informatici dell'agenzia delle entrate sono difficilissimi. E anche Camera di Commercio, Tribunali, Conservatorie. E oggi con questa applicazione, in un secondo, mi entra una persona in agenzie immobiliari, io so tutto quanto. Quindi non mettendo con un algoritmo potentissimo, che oggi è il più potente motore di ricerca delle persone, soprattutto anche fisiche, io so già il nome e il cognome e gli dico tutto. Gli dico cariche attive, recessi, protesti, pignoramenti, gli dico tutte le case che ha. Ovviamente è il lavoro che prima faceva, o che fa ancora un notaio, no? Allora, il notaio entra anche, deve anche valutare se un atto notarile è giusto. Noi invece ci colleghiamo e in un secondo tu ti scarichi l'atto notarile, la planimetria, le visure catastali, ipotecari, ti scarichi tutto, dall'app a dei costi bassissimi. Quindi oggi ne abbiamo tantissimi, 6.000, 7.000 agenzie immobiliari che ci utilizzano, abbiamo controllato 6 milioni di italiani, è veramente veloce e il nostro lavoro con l'azienda, con Gonext, è proprio aiutare le agenzie immobiliari a fare questo percorso digitale, uno dando questo strumento, WISE, che è assolutamente rivoluzionato, che ha cambiato il modo anche di fare zona, perché metti un indirizzo, ti piace una casa, vedi un cartello vendesi, clicchi sull'app e scopri il proprietario, ti scarichi, come ha detto, la planimetria, quindi proprio anche solo mettendo il numero civico, prima si andava a fare zona, si diceva, si andava lì, si doveva andare a fare zona, suonare, campanelli, mettere i nomi, questo lo fa tutto, oramai l'app, metti un indirizzo, una via, un numero civico, lui ti scarica tutti i subalterni, entri nei subalterni, scegli il secondo piano, e ti vedi tutti i proprietari, e ti fai l'analisi del proprietario. Ah però, come avete superato i problemi della privacy anche su questo? Tutto pubblico, tranne la planimetria, che è necessaria la delega, noi vendiamo le planimetrie, ma lì è necessaria la delega della persona, tutti gli altri dati sono pubblici, ufficiali e pubblici, quindi noi abbiamo collegato tutti i database pubblici. Con domini morosi tour? No, con domini morosi no, con domini morosi bisogna andare... Perché sai che quella è un discriminante importante per scegliere una casa. Con domini morosi ci vuole un'attualizzazione, la delega per andare lo stesso, no, lì non si può, perché c'è la privacy come il casellaro giudiziario. Questa è la prima applicazione rivoluzionaria, la seconda abbiamo ripreso dei vecchi portali, c'era un'associazione che aveva un vecchio portale, si chiama Cerca Casa, l'abbiamo trasformato, rifatto tutto, e oggi è la prima grande community italiana di agenti mobiliari verificati e certificati, cioè ne abbiamo 9.000 di agenti dentro, si entra dentro, l'agente entra dentro, se non è codice a teco si dice 6831 viene rimbalzato, quindi noi ogni mattina vediamo tutti gli abusivi, noi combattiamo l'abusivismo, e quindi se si è 6831 si entra, si può registrare, a questo punto l'agente mette la faccia, come si diceva prima, l'annuncio ha una vita limitata, l'annuncio immobiliare ha 6-7 mesi, l'annuncio in affitto ha 2 giorni, 5 giorni, noi abbiamo fatto un community basato sulla faccia dell'agente immobiliare, quindi l'agente immobiliare entra, mette dentro foto, video, diplomi, certificati, mette una sorta di LinkedIn, e a questo punto abbiamo tutti gli agenti, tu ricerchi tutti i professionisti in zona, così come in Australia, in America, eccetera. Oggi per esempio le banche Unicredit Subito Casa, va approvato con un progetto di, c'è ancora con Subito Casa, Intesa San Paolo, sapete che è aperto Intesa San Paolo a casa, oggi una delle più grandi banche in Italia, ha scommesso sulla categoria sugli agenti immobiliari, ma io parlo dell'agente immobiliare, quindi fra qualche giorno vedrete, su uno dei più importanti siti della banca, sulla sito della banca, ci sarà questa community di agenti immobiliari, quindi quello che io dico agli agenti immobiliari, come si diceva prima, metteteci la faccia, perché la vostra faccia dura una vita, e quindi i vostri video, dimostrate, quando veramente trovate un cliente, il cliente poi si accompagnerà a voi, è come in Australia, è come in America, quindi gli altri portali, come si diceva prima, invece non mettono la vostra faccia, mettono il loro brand, quindi tende sempre di più ad andare sull'annuncio, questo invece voi ci dovete mettere la vostra esperienza, è questo che voi dovete promuovere, la vostra esperienza. E' proprio il nome di questa banca, che sta lanciandosi con l'operazione con gli agenti immobiliari, non si può dire, dopo parliamo in prima, la notizia me la farà pure portare a casa oggi, non è che posso stare qua tutto il giorno, senza portare a casa niente, allora avete fatto un po' il biglietto da visita, rispetto alla vostra attività, che c'era utile per partire, adesso però dobbiamo guardare avanti, perché appunto il tema di questa tavola rotonda è come costruire la crescita aziendale, quindi cosa fate voi a questo punto per guardare avanti e continuare ad essere, e a mantenere la vostra competitività su questo mercato, che è fortemente competitivo, anche se ha grande innovazione, quindi grandi opportunità per tutti. Diego Caponigro, ritorno da lei, qual è la vostra ricetta in questo senso, e le chiedo anche qual è, quello che ritiene essere l'errore più comune, che impedisce ad un agente immobiliare di dare continuità alla crescita della propria azienda. Perché spesso ci si dimentica che l'agente immobiliare è anche un imprenditore, un imprenditore di se stesso. Sì, questo è vero, però io dividerei l'agente immobiliare in due categorie, l'agente immobiliare come imprenditore di se stesso, e l'agente immobiliare come broker, ovvero come imprenditore che gestisce altri agenti immobiliari. Questa è una differenza sostanziale che in Italia forse, non so, ogni tanto si trascura, perché fare il broker è completamente diverso che fare il semplice agente immobiliare. Ovviamente ci sono alcune dinamiche che sono molto più aziendali, molto più strategiche, si è chiamati a prendere anche delle decisioni importantissime, e invece quando si è un singolo agente immobiliare, o nel migliore delle ipotesi, anche un agente immobiliare che ha fatto un certo tipo di percorso e ha aperto la propria agenza immobiliare, si è semplicemente imprenditore di se stesso. Quindi diciamo che secondo me le due categorie sono queste. La domanda era quali sono le regole più comuni. Per dare continuità, perché un agente immobiliare a volte perde di vista magari questo obiettivo, la continuità nella crescita? Allora, la continuità, io innanzitutto consiglio di studiare e continuare a studiare, che è esattamente quello che ho fatto anch'io nel mio percorso professionale, quindi dal semi interrato fino ad arrivare anche a livelli dirigenziali, in una multinazionale, e continuo a farlo. Quindi non vedo perché l'agente immobiliare non deve farlo. Studiare implica il fatto che comunque si rimanga sempre comunque coi piedi per terra anche nei periodi tecnici di vacche grasse, come si dice in business. non si possa dimenticare quello che è il passato, da dove si è arrivati, e questo dà maggior consapevolezza e pianificazione per quelli che sono i passi successivi. Quindi il grande consiglio che do io, che probabilmente è l'errore che fanno comunemente, è smettere di studiare, perché pensano di essere già arrivati a un livello tale. Perché magari vivono in un mercato molto vivace, può essere Milano come altre città, che consentono di lavorare sempre bene. Le cose vanno sempre bene e invece no. Vive un po' di rendita, invece ci sono poi dei momenti, capita la pandemia che ti paralizza tutto il mondo e magari in certi momenti qualche soluzione per riemergere la devi trovare. Quindi studiare sempre. Simone Rossi da manager a imprenditore che si relaziona con tante agenzie immobiliari. Dove andrebbe ad intervenire per favorire lo sviluppo di tante microaziende che lavorano nella mediazione? Sì, in effetti il mercato immobiliare italiano, il mercato delle agenzie è fatto di veramente tante piccolissime aziende con portafogli molto piccoli. Quindi c'è bisogno di far crescere queste aziende e dargli un pochettino un po' di struttura, perché è importante comunque. Io parlo della mia esperienza. Sicuramente il mercato estero, guardare all'estero, quindi dare un'occhiata a quello che c'è negli altri paesi, può aiutare tantissimo le agenzie a capire com'è il mercato immobiliare negli altri paesi, come sono le agenzie immobiliari, che hanno sicuramente tutta un'altra struttura, un'altra organizzazione. Per crescere anche, come dicevo, il mercato degli acquirenti stranieri è un mercato che ha delle caratteristiche che è molto difficile trovare in altri mercati, perché è un mercato molto consolidato, perché se ci pensiamo comunque dai primi anni 50 che gli stranieri comprano a casa in Italia, quindi stiamo parlando di un mercato che ha una settantina di anni come mercato, però ha dei tassi di crescita di mercati emergenti, che noi ad esempio nel 2021 rispetto al 2020 abbiamo fatto più 120% di richieste dall'estero, quindi è un mercato che sembra peranato, ma in realtà è molto consolidato. Quindi puntare su un mercato come questo qua è molto importante, non tutte le agenzie lo fanno, e c'è da capire soprattutto che non sono le zone più famose a far suscitare comunque l'interesse da parte degli stranieri. I stranieri sono innamorati dell'Italia, tutta l'Italia, è un sogno che parte spesso da giovani, spesso vengono portati in Italia dai genitori, si innamorano dell'Italia, è un sogno che coltivano fino ad arrivare a una età matura, matura sia di età che anche a livello economico, a livello professionale, quindi quando hanno una certa maturità anche a livello professionale, economico per potersi permettere una casa, realizzano il loro sogno di una vita. Questo appunto, guardare al mercato estero, secondo me può portare grandi crescite in agenzia, ripeto, sia guardare il mercato estero come potenziali acquirenti, sia guardare le agenzie che lavorano all'estero, come lavorano, la serietà che ci mettono, la dedizione, i tempi di risposta alle richieste che noi vediamo che sono, quando rispondono sono eterni, la maggior parte dei casi no, ma circa un 40% delle richieste che arrivano non vengono mai evase, altre invece hanno tempi di risposta che si parla di giorni, quando comunque un acquirente americano si aspetta che ha una risposta dentro le 24 ore, dopo le 24 ore passa qualcun altro, ma penso che sia normale, anche noi quando cerchiamo un servizio mandiamo 4-5 richieste per un servizio che ci risponde bene e poi continuiamo ad andare avanti, che ci risponde fra 4-5 giorni ciao, hai già perso il treno, rispondono anche più. Questa sfonda una porta aperta, adesso non c'entra niente, io scrivo ogni tanto dei libri con il sole 24 ore, mi capo di andare in giro a fare degli eventi e contattiamo in genere le librerie del posto per portare, si scordano di fare gli ordini, fa tutti schifo vendere una cinquantina di libri tutti in giro di un'ora e quindi davvero queste cose sono in questo momento per me sorprendenti e quindi sposo perfettamente. È un problema generalizzato, non è soltanto del mercato immobiliare, a sto punto purtroppo, perché noi italiani siamo un po' troppo lenti. Lei fa continuamente questo riferimento guardiamo come lavorano all'estero, come lavorano all'estero, io sono affezionatissima al canale Omengarden TV e quindi guardo un sacco di questi reality americani che fanno le case, come dicevo prima, non mi ricordo, di tre porcellini tutti di legno, sono andata a farmi nel 2019 questo viaggio a Waco per andare a vedere Joanna Gaines, quindi non so se voi l'avete mai visto, Fixer Upper, quindi proprio una malata mentale, però no, lì c'è questo modello di realtor, di questi che comprano le case, le ristrutturano e le rivendono, ma qual è questo modello? Adesso non so se uno di voi mi può rispondere, ma non è però particolarmente diffuso come ho la sensazione che sia per esempio il mercato ci sono, non mi ci sono mai, o Gerardo Paterna non l'invita e quindi li vorrei conoscere, quindi ci sono, ci sono questo modello American Style insomma che ci affascina tanto. Giovanni Codemer, torniamo alle piccole e medie imprese che sono il vostro pane quotidiano, appunto come ci ha raccontato molto bene all'inizio, in questo caso qual è il consiglio da dare, da rivolgere ad un agente che volesse gestire proprio, come dire, con spirito imprenditoriale la propria attività, magari proprio con lo stesso spirito delle piccole e medie imprese che seguite. Sì, diciamo che il mio, di base, quello che vedo io è che bisognerebbe cercare di scucirsi di dosso l'etichetta di agente e cucirsi quella di imprenditore. Vai, sono di consulente. e quindi non so esattamente quali possono essere consigli preziosi, tuttavia mi sento di condividere quello che è, nella mia esperienza, quelli che sono gli appuntamenti di valore che faccio con quelli che poi riconosco come imprenditori nel settore immobiliare, che per fortuna, essendo noi un'azienda appunto non proprio focalizzata solo sull'immobiliare, veniamo avvicinati appunto quando c'è un'intenzione di crescita molto molto specifica. Quindi ne incontro parecchi che sono, diciamo, dalla parte evoluta. Le caratteristiche, secondo me, fondamentali, quelle che, insomma, a me mi colgono e mi sento di condividere, sono una programmazione finanziaria, quindi una contezza di quello che sono i budget, gli obiettivi, delle KPI molto semplici, dei traguardi da monitorare in maniera molto semplice e soprattutto avere tutti questi tre valori sotto controllo durante quello che è l'anno di produzione. Un'attenzione spiccata verso le novità, novità intendo tecnologiche, di metodo, condivise per quello che può essere un'esperienza utente eccellente, quindi per quelle che possono essere le attese del nostro cliente. Un'attenzione sulla formazione, quindi le aziende che fanno formazione sia nel titolare sia nel team, con dei percorsi dedicati e molto specifici. Un'attenzione al recruiting, non inteso come devo crescere, sono un broker, devo crescere, devo portare dentro persone, ma devo crescere, devo portare dentro persone con dei percorsi mirati, quindi devo fare anche in modo che queste persone abbiano degli obiettivi e possono essere soddisfatte del lavoro che vanno a fare. E poi secondo me una caratteristica fondamentale è la capacità di delega. Se aggiungiamo un pizzico quella forse potrebbe anche essere l'unica di queste caratteristiche che porta poi anche ad una crescita aziendale perché se ci aggiungiamo un pizzico di curiosità e un un po' di fiducia che poi si instaura con noi o con anche altre aziende che sono in grado di erogare servizi si può veramente delegare e lasciar fare una grossa parte di attività e concentrarsi su quello che invece è il bilancio, la crescita, le opportunità, la formazione, stare vicino alla propria rete vendita e quindi fare impresa non fare la gente. Sono molto colpita dal fatto che ci siano degli imprenditori che mediamente riteniamo essere strutturati e solidi e capaci di fare attività di impresa che abbiano bisogno di qualcuno che gli insegni come fare impresa eppure anche questo è un mercato evidentemente non è che si può sempre essere bravi su tutto e magari ci sono quali sono nella vostra attività per esempio le ingenuità più ricorrenti che trova tra le persone tra gli imprenditori che seguite. Non so, una domanda banale è qual è il ROI degli investimenti pubblicitari quindi i portali non calcolano neanche ci pensano non si accontessa di questi valori e quindi ci si basa sul fatto che faccio X appuntamenti e porto a casa una vendita. Questa cosa qua oggi secondo me in un percorso di crescita strutturata e quindi non tanto al caso che nel settore immobiliare va bene perché comunque è un settore che tira che funziona però le realtà che crescono si programmano e hanno degli obiettivi e lavorano per quello e quindi misurano anche quelli che sono i risultati Daniele Mancini una lunga esperienza nell'immobiliare qual è dal suo punto di vista il fattore di crescita appunto per un'agenzia quello trainante quello portante il faro la stella cometa per me è anche un po' come dice anche Diego studiare e dico anche leggere i dati oggi si possono fare con la tecnologia cosa che prima non si potevano fare si spendeva 15-20 euro per preparare una visita quindi bisognava fare 8-9 report scaricarsi tanti report oggi con qualche decimo di euro sapete tutto della persona dell'immobile eccetera quindi bisogna sapere leggere incontrate una persona adesso avete conosciuto una persona mettete il nome il cognome andate a scoprire tutto quello che fa tutte le case che ha le cariche che ha è una possibile acquisizione andate preparate una visita portate in visita anche noi abbiamo creato un indice di confronto tra persone dove mettiamo in ordine quelli che potenzialmente migliori quindi nel mondo dell'acquisizione e nel mondo della vendita portatevi in visita solo i primi 5-6 che si possono permettere quella casa se uno è rosso è normale che non otterrà mai un mutuo se ha dei pignoramenti eccetera in banca gli rimbalzano e quindi è normale che vi dovete portare presenterete al locatore solo i primi 5 potenziali conduttori come si fa in America con l'application cioè quando io dico dati oggi voi avete tutto veloce online e subito e quindi nell'acquisizione che è il momento più importante per voi a vendere è facile acquisire è difficile voi dovete trovare le migliori offerte per prepararvi tipo l'atto notarile oramai si può scaricare online certo post 2012 titolo telematico ma voi vi scaricate l'atto dall'atto andate sul dopo vi siete scaricati dall'atto o da UISE con la parola avvalsa vi prendete vedete quanta commissione ha preso quanto ha pagato la commissione in quale agenzia a quanto l'ha venduto l'ha certificato energetico eccetera quindi vi fate anche della casa a fianco quando io dico dati voi oggi avete tutto la vissura storica fatela costa 99 centesimi un'atto in un potecaria 6,9 veloce ve la fate e ce l'avete sempre lì in automatico che si crea questi dati qua voi andate da un potenziale che vi deve dare il mandato voi vi presentate senza neanche dirlo che avete studiato tutto lui ci rimarrà dire madonna ma questo è proprio un professionista e quindi vi andate a totalmente a fare la differenza verso un che non una persona un agente peggio ancora abusivo che non sa niente di questo mondo e quindi dice ah buongiorno invece voi sapete già le cariche le partecipazioni eventuali pignoramenti eccetera è una un'acquisizione quella quindi leggere dati per acquisire e la professionalità fa la differenza anche nel portare a casa dei risultati allora ci rimangono tre minuti se mi promettete di essere flash un'ultima domanda un round lo faccio poi dopo devo ridare il palco a Gerardo Paterna Diego Caponigro facciamo proprio uno sguardo sulle 2023 questa mattina abbiamo evocato la recessione aumenti dei tassi tanti aspetti problematici ho messo mamma sono 150 mila anni che siamo abituati a navigare in mari tempesta e quindi non è per voi una novità come dire affrontare con un approccio sfidante anche i momenti di difficoltà che arriveranno se dovesse indicarmi l'obiettivo della vostra attività per il 2023 quale ha in testa allora noi siamo entrati nel gruppo idealista e quindi le nostre prospettive sono comunque di crescita e di una crescita importante il nostro pay off recita il numero uno dei servizi per agenti immobiliari semplicemente perché siamo stati i primi a creare questo questo genere di business e abbiamo e ci siamo creati anche la concorrenza quindi abbiamo la quota più importante del nostro mercato in assoluto e sicuramente abbiamo davanti un futuro importantissimo anche se arriverà la crisi quindi durante le crisi di solito si generano delle opportunità io sono nato come azienda durante la crisi dopo lo scantinato cos'altro può succedere ma io sono tutta una crescita Simone Rossi per il 2023 che cosa hai in mente? Sì noi stiamo investendo molto in intelligenza artificiale quindi nel 2020 tra l'altro esatto stamattina come dire è stato sempre un po' il convitato di pietra di tutte le soluzioni anche tecnologiche citate da vari attori ma la protagonista è lei sì sì assolutamente e tireremo fuori sicuramente dei servizi già ne abbiamo tirati fuori nel 2022 molti clienti lo sanno tireremo fuori nel 2023 altri servizi che non andranno assolutamente a sostituire quello che è il ruolo dell'agenzia immobiliare o le competenze dell'agenzia immobiliare ma andranno ad aggiungere quello che umanamente l'agenzia immobiliare magari non o l'agente immobiliare non riesce a fare verso il mercato estero e a ridurre quel gap di qualità che l'utente straniero si aspetta dal mercato italiano perché è abituato ad avere quella qualità nel loro paese e che il mercato italiano fa ancora un po' fatica ad offrire Giovanni Codamer noi vogliamo andare ad incrementare quello che abbiamo raccontato prima anche nella talk room quello che è lo strumento proprietario ne parlava prima anche Scandellari ci siamo presentati con un sito proprietario che ha delle caratteristiche per far crescere l'agente immobiliare e rispetto a quello che era il core della nostra presentazione dell'anno scorso di Sinergie quest'anno col tema presente vogliamo andare anche a presentare un modello comunicativo guidato per utilizzare gli amplificatori che abbiamo a disposizione per invitare il nostro pubblico a visitare casa nostra quindi potenziare la nostra immagine in un percorso omnicanale e dare uno strumento veramente di qualità all'agente immobiliare più abbiamo un secondo obiettivo che è quello di consolidare le partnership con le medie e grandi imprese che operano in questo settore Daniele Mancini oltre a dirmi il nome della banca che parte con gli agenti pubblici oggi il 40% circa sapete che tramite privati senza il vostro aiuto il nostro lavoro è cercare di aiutarvi a far uscire la vostra professionalità a mettere puntare tutto sul vostro brand per ripigliarvi col 40% per andare a eliminare tutti gli abusivi e quindi darvi la professionalità solo a voi solo a 6831 e quindi dare strumenti tool per aiutarvi a ottenere acquisizioni grazie grazie a tutti e quattro in bocca al lupo per la vostra attività e complimenti grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori